La Sardegna è stata investita in pieno dalla seconda ondata dell'epidemia di coronavirus. Ieri la pandemia ha toccato il record assoluto di contagi giornalieri con 230 casi accertati con appena 1911 tamponi effettuati, un tasso altissimo, superiore al 10% che deve far preoccupare le autorità sanitarie e indurre i cittadini a rispettare le norme anti-covid, uso delle mascherine quando richiesto, distanziamento interpersonale e igienizzazione delle mani. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia ieri ha toccato la quota di 6.096. Il numero di persone ricoverate è di 208, qui si aggiungono 29 positive ricoverate in terapia intensiva. Le persone decedute sono salite a 174, sono 3.159 soggetti in isolamento a domiciliare, mentre quelli attualmente positivi in totale sono 3.396. Sul territorio a livello provinciale dei 6.096 casi positivi complessivamente accertati, 998 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 864 nel sud Sardegna, 484 a Oristano, 909 a Nuoro, 2.841 a Sassari. Tutti gli ospedali covid sono in difficoltà e l'assessore regionale della sanità, Mario Niedu, la settimana scorsa ha disposto di riattivare i reparti nel Policlinico Sassarese e nel Materolbia. Inoltre il Santissima Trinità di Cagliari potrà attivare altri 20 posti, così come la clinica San Pietro di Sassari. A Nuoro invece dovrebbe essere attivato entro una settimana l'ospedale da campo, donato da una multinazionale olandese che dispone di 20 postazioni di terapia intensiva e subintensiva, una struttura all'avanguardia che per 5 mesi è rimasta chiusa in magazzino e che adesso, vista la grave difficoltà in cui versa la gestione della pandemia a Nuoro, sarà finalmente attivato. La ASL ha disposto all'esecuzione dei lavori necessari per rendere operativo l'ospedale da campo. Inoltre la Direzione Sanitaria sta provvedendo all'assegnazione del personale per poter gestire la struttura che dovrà far fronte all'aumento esponenziale dei ricoveri mai raggiunti neanche nei mesi di marzo e aprile.